Ciao amici, ecco le nuove magliette a InBed Ruttosound. Martedì 20 giugno a Reggiolo di Reggio Emilia, Ruttosound 2017. Da un'idea di Stefano Morselli, da vent'anni il Ruttosound è la serata più attesa della festa della birra. Ruttosound è prodotto dalla festa della birra di Reggiolo in collaborazione con il grade di Reggio Emilia. Martedì 20 giugno a Reggiolo di Reggio Emilia, edizione numero 20. Non mancate. Il 20 giugno a Reggiolo, vi aspettiamo perché? Max Delecce. Ciao ragazzi. Buonasera e benvenuti al Ruttosound.